Bentornati su Parlare Digitale, io sono Tommaso e oggi vi parlerò di quella volta in cui sono stato licenziato. Un momento della mia vita sicuramente importante, un cambio completo nella mia realtà e questo non vuole essere un video né allesteremo della depressione, della tristezza, del rammarico, del rancore, nessuna di queste cose né allesteremo del diventa capo di te stesso, do it yourself, puoi farcela, rialzati. No, è un video normale, è un video senza alcun tipo di esagerazione da questi punti di vista perché credo che questa sia un po' la reazione che bisognerebbe avere di fronte a questi eventi. Sono cose che capitano, sono cose che sono accadute nella vita della maggior parte delle persone e quindi semplicemente dobbiamo accettarle, andare avanti e capire cosa possiamo imparare e cambiare da quel momento in poi. In particolare io ho perso il lavoro a causa del Covid, se possiamo dirla in questo modo, nel 2020. 2020 era forse ancora febbraio addirittura, nel 2020 la startup in cui lavoravo stava preparando un round di investimento ed era molto a corto di cash, mettiamolo così, come succede in tantissime startup che sono in seed, quindi loro avevano fatto più o meno un milione di euro in pre-seed nel 2018, dopo due anni i soldi cominciavano ad essere scarsi, si puntava appunto a prendere nuovi soldi da investitori per chi non sapesse come funziona, probabilmente ci sono altri video in questo canale che lo spiegano, quindi metterò il link in descrizione. Comunque, appunto, le startup si finanziano con soldi di altri, noi stavamo programmando di prendere altri soldi a marzo 2020 e a febbraio i mercati a livello VC, a livello di banche, forse non tanto a livello finanziario, ma forse anche a livello finanziario un pochettino, cominciavano a scricchiolare e in particolare uno dei più grandi investitori istituzionali di questa startup dove lavoravo si è tirato indietro e quindi è saltato tutto. Stavamo lavorando per lanciare una piattaforma il venerdì e questa notizia è arrivata lunedì. Mi hanno fatto sedere in una stanza, ero la prima persona con cui parlavano perché ero la persona che aveva lavorato lì più a lungo, sono sopravvissuto a tre mass firing dell'azienda che nel far tempo ha cambiato business model, anche per colpa mia, ha cambiato idee, ha cambiato tutto, ha cambiato persone, però appunto io ero lì da due anni e quindi mi hanno convocato e mi hanno detto guarda Tommaso, l'investitore si è tirato fuori, se noi adesso continuiamo non avremo più soldi, cioè dobbiamo chiudere e quindi andiamo tutti a casa. e in quel momento, devo dire, non ho avuto nessun tipo di reazione particolare. Era già da un po', sinceramente, che pensavo di cominciare a fare qualcosa per conto mio e ero rimasto, nonostante avessi alcune preoccupazioni sull'andamento dell'azienda e sulle decisioni prese, poi magari a ragion veduta guardando indietro adesso, perché avevo cominciato ad assumere un team, il primo team mio, che stavo costruendo da zero e non volevo lasciare, anzi in quel caso le ragazze erano solo ragazze, indietro. Il mio lavoro era quello di creare anche un ambiente in cui loro potessero crescere e migliorare e quindi non potevo tirarmi indietro dal mio punto di vista, ma ho appena rifiutato un'offerta di lavoro due settimane prima, una settimana prima, quindi c'è stata un po' l'ironia della sorte in quel caso, rifiutare un'offerta di lavoro ben pagata due settimane prima di scoprire che l'azienda dove sei comunque sta andando gambe all'aria. E appunto il fatto magari di avere già in mente di voler fare qualcosa di mio dopo me l'ha fatta prendere con più tranquillità come notizia, invece l'ha fatto diventare un po' quel trigger per dire ok, questo è il momento giusto. Ho fatto anche una scelta finanziaria forse senza senso, ho deciso il mese dopo di aprire la mia agenzia, la mia azienda, quando in realtà per due anni, specialmente in un anno col covid difficilissimo, mi sarei potuto prendere la disoccupazione perché io avevo un contratto a tempo indeterminato che pagava molto bene per il Portogallo e che sarebbe stato supportato dallo Stato, però insomma il reddito di cittadinanza per adesso me l'avevo risparmiato proprio perché, diciamo, ho fatto questa scelta, ho rinunciato a questa cosa, sia perché no, cioè stare un anno a casa senza fare niente non era un granché, avrei potuto concentrarmi su attività, magari costruire il mio personal branding, fare più di questi video, fare podcast, fare altre cose gratis e poi monetizzare dopo, però ho deciso di no, anche perché sentivo questo fuoco di voler cominciare qualcosa, di voler fare qualcosa e per me il tempo era molto più valuable del denaro che avrei preso in quel caso. Però mi ha cominciato a far pensare che molto spesso le sensazioni che uno ha nell'ambiente di lavoro andrebbero ascoltate di più. Era da un po' che sentivo che le cose non andavano bene, era da un po' che mi dicevo, ok, aspettiamo perché devo aiutare le persone che sono qui, sto creando il team, devono crescere, e forse erano bugie magari perché avevo un po' di paura, non sapevo bene cosa stessi facendo e quindi queste erano risposte facili e soprattutto era sbagliato il dirmi no ma ti stai inventando tutto, non ti preoccupare, andrà bene. Questa cosa l'ho vista anche quando ripenso ai miei colleghi. Ogni tanto mi è capitato questo siparietto strano, non divertente perché i momenti erano sempre un po' cupi, in cui un collega mi ha chiesto di parlare o magari siamo andati fuori io e lui a prenderci un caffè, io e lei a prenderci un caffè e la persona in questione mi ha detto Tommaso ti devo dire una cosa, e ho detto ok, te ne vai, no? Hai deciso di cambiare lavoro, hai deciso di uscire da questa azienda, ho detto sì, come fai a saperlo? Perché non penso di essere solo io, credo che molto spesso queste cose possano essere, tu le senti, cioè se tutto il giorno in ufficio, o meglio stavi tutto il giorno in ufficio con delle persone, cominci a capire quando ci sono delle energie negative, adesso non voglio fare il complottare o non voglio cominciare a parlare di energie, cose assolutamente non scientifiche o quantificabili da questo punto di vista l'energia esiste, vi do questa novità, però insomma le energie delle persone è un concetto molto più vago, molto meno preciso, molto meno scientifico, però secondo me queste cose si sentono, si percepiscono, e magari andrebbero sentite, andrebbero ascoltate, andrebbero considerate ancora di più quando si tratta di appunto le vostre scelte a livello lavorativo, quando qualcosa gli inglesi direbbero feels off, feels è molto difficile, viene percepita in maniera strana, viene percepita fuori da quelli che sono gli schemi vostri, di quello che volete fare, della vostra normalità o della vostra volontà, forse è meglio prendere in considerazione più di quanto non sia normale. Niente, in realtà questo è il primo insegnamento, e ce n'è solo un altro che vorrei condividere con voi oggi, che si lega principalmente al mondo delle start-up, perché magari in corporate è diverso, però ripensando agli ultimi mesi dell'azienda mi è venuta in mente una cosa, mi è venuta in mente che mi ero un po' seduto sugli allori, come ho detto prima, io in quell'azienda resistivo da quasi due anni se non sbaglio, e dico resistere proprio perché, come ho detto prima, ci sono stati veramente tantissimi momenti in cui tutto il mio team, a parte me, è stato mandato a casa, oppure tutto il team, tutto un altro dipartimento è stato mandato a casa, è stata un'esperienza da quel punto di vista terribile, tante scelte magari col segno di poi sbagliate, e di nuovo magari sarei dovuto andare via prima, però insomma è anche difficile dire queste cose quando uno è lì ed è stata un'esperienza importantissima per me, quindi non voglio sputare dove ho mangiato, però il discorso è che ci siamo seduti sugli allori a un certo punto, nell'ultima iterazione di questa azienda, nell'ultimo momento avevamo questa idea, sapevamo che a marzo, aprile 2020 avremmo chiuso ufficialmente questo funding round, erano investitori che già conoscevamo, quindi sarebbe stata una cosa facile, rapida, senza problemi, e poi sono successe cose, il lancio magari non era andato bene quanto pensavamo, però abbiamo detto ok, fa niente, diamo via un po' più di equity, altre cose che volevamo fare non sono andate altrettanto bene, io magari non avevo più la voglia di fare cose nuove, innovative al lavoro, sapevo cosa dovevo fare, sapevo l'obiettivo e facevo il minimo indispensabile per andare avanti, facevo il minimo indispensabile, non avevo più quella spinta che avevo all'inizio invece di migliorare le cose, di trovare cosa poteva diventare un multiplier di quello che stavamo facendo, si era creata questa attitudine, non so bene per quale motivo, per cui ci sentevamo arrivati e guardando indietro adesso ho capito che quello è il più grande insegnamento forse di questa esperienza, cioè che in un mondo che cambia così velocemente come quello delle startup innovative, una startup innovativa è una cosa che veramente solo in Italia possiamo dire startup innovativa, una startup se si chiama startup è già, vabbè, lasciamo perdere, forse usiamo il termine startup in maniera un po' troppo poco precisa, ecco, comunque sia, lasciando perdere questo piccolo rant, nel momento in cui ci siete sugli allori si pensa che sia tutto fatto, che si sia arrivati, specie quando non lo si è in maniera palese, perché un'azienda che è in seed round non è un'azienda arrivata, è un'azienda che sta ancora cercando il suo posto nel mondo, sta ancora cercando il suo product market fit e nel momento in cui si smette di cercare l'ottimizzazione a tutti i costi, di cercare il miglioramento, lo step successivo a livello tecnologico, a livello marketing, a livello di prodotto, in quel momento si comincia a morire, piano piano, ed è la cosa peggiore che puoi fare, perché gli investitori sono disposti a crescere, sono disposti ad investire in un'azienda più piccola che mostra segni di crescita piuttosto che non in un'azienda media che però è stagnante, quella è una piccola media impresa, non è una startup e chiaramente funziona con meccanismi e logiche diverse, non che ci sia nulla di male, ma io sono proprietario di un'agenzia che per definizione è una piccola media impresa, però sono due mondi completamente diversi e devi avere un business model completamente diverso che noi non avevamo, quindi abbiamo fatto un po' questo errore e ci si è ritorto contro immediatamente, poi sarebbe facile dire ah ok, se non ci fosse stato il covid allora, ma sinceramente non ne sono così convinto, magari il momento sarebbe arrivato dopo, sarebbe arrivato quando sarebbero finiti i nuovi soldi, però sarebbe arrivato quando tu ti siedi sugli allori, quando pensi di essere arrivato, poi ti arriva lo schiaffo in faccia, perché non ti sei mossa abbastanza in fretta da evitarlo, e invece le aziende che hanno successo si muovono in fretta, e forse il motivo per cui noi pensiamo che non ricevano mai questo questo schiaffo in faccia è perché molti li evitano muovendosi estremamente veloci e perché invece quelli che prendono, perché anche loro li prendono, vengono dimenticati in fretta, li lasciano nella polvere, continuano ad andare avanti, continuano a lavorare, continuano ad innovare, continuano a migliorare il prodotto, e quindi poi ci si dimentica dei momenti negativi, dei momenti di down. Credo che ci sia un'eccessiva celebrazione del mondo delle start-up, di molti aspetti legati a questa realtà, però questo forse è un po' uno stereotipo celebrativo che che mi sento di condividere di più con voi oggi, perché l'ho vissuto sulle mie pelle e credo abbia ragione. Comunque sia, e questo è tutto quello che avevo da dirvi per oggi, adesso sicuramente ci saranno farete tutte le varie cose che ogni youtuber bravo vi chiederebbe di fare, quindi iscrivervi, mettere mi piace, condividere tutto quello che volete, soprattutto tra poco usciranno fuori dei riquadrini in cui potrete cliccare su altri video del canale, che sicuramente vi piaceranno un sacco, consigliati da voi proprio dall'algoritmo di youtube, freschi freschi, noi ci sentiamo ad un prossimo video, vi ricordo appunto che potete iscrivervi, condividere, mettere mi piace tutto quello che volete. ciao, ciao, ciao.